Offende il sindaco di Agropoli Franco Alfieri su Facebook nei guai un 42enne di Agropoli raggiunto da un avviso di garanzia. I fatti risalgono al novembre del 2014. L'inchiesta fu aperta dopo la querela denuncia presentata dal primo cittadino agropolese. Il 42enne risulta indagato per aver offeso la reputazione del sindaco di Agropoli pubblicando sul sito network Facebook e su un sito locale il seguente commento. Io ho avuto la sfortuna di conoscere il sindaco nell'espletamento della funzione. È una persona ipocrita, il peggio del peggio, il classico politico italiano. Potrei dire anche altro. Io non ho paura, visto quello che mi ha fatto personalmente. Sono 40 anni che mi occupo di Porto. È arrivato sto soggetto. Ha provato una cosa ad Agropoli e ha perso la testa. Ha fatto solo guai per quello che mi riguarda. Vedremo se lo candideranno, come risponde Agropoli, cosa pensa. Il fatto è che sia a livello nazionale che locale la gente se ne fotte di cosa fa la politica, salvo poi lamentarsi della situazione. Come già detto, per quello che mi riguarda ha distrutto la mia vita, il Porto. Il provvedimento emesso dalla procura vallese fa seguito alla chiusura delle indagini preliminari avviate dopo la querela denuncia del sindaco Franco Alfieri.